Razz the gun! Ora io mi faccio i fatti tuoi, dimmi quali sono i fatti tuoi Scopare, stare bene, guarda la partita Allora scusami, tu sei un praticamente home management, fai il casalingo se fai quel lavoro lì, giusto? Pulisci, no? A me quello che è importante è godere la vita Va bene, comunque ho capito una cosa, senti Paola, ho capito una cosa, che lui ha fatto lo scimione nel Tugurio Quindi qualcosa di animalesco hai, di scimione, quanto c'è di scimione in te? Vuoi provare cara? Senti, io proverai anche, ma mio marito è tartan Maura? No Allora Razz, vuoi fare un saluto a tutti i nostri amici di Time TV? No Grazie Grazie